Giovedì 14 di aprile, benvenuti all'edicola di SkyTG24, notizie più importanti sui quotidiani nazionali e cosa succederà nei prossimi mesi, l'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, cosa accade sul campo in Ucraina, parliamo di guerra, ma anche di ripercussioni economiche, il gas in primo piano, quindi l'energia, per poi anche approfondire quelli che sono stato l'ennesimo appello da parte del Papa. Partiamo, Traghi che accatassa la poltrona sul mattino di Puglia e Basilicata, da rivedere appunto il catastro senza aumentare le tasse per restare in sella.